L'associazione culturale d'identità europea arriva a Città di Castello, con una conferenza dove è stato ospite il professor Andrea Zoc, docente associato all'Università degli Studi di Milano, e il presidente dell'associazione Adolfo Morganti, in cui hanno presentato il volume del docente dal titolo La profana inquisizione e il regno dell'annomia. Culture woke, identity politics, ideologia gender, cultura del politicamente corretto, sono alcune delle espressioni utilizzate per identificare uno stesso movimento culturale, nato all'indomani del 1968 e diffusosi poi nel mondo occidentale. E sono questi gli argomenti che sono stati al centro del summit con il docente universitario. Il libro cerca di tratteggiare, di formulare un quadro intorno al politicamente corretto e all'idologia woke, quindi a quelle componenti culturali che hanno creato uno stravolgimento delle aspettative medie intorno a tematiche, come la sessualità, l'identità di genere, eccetera, che sono al centro del debattito contemporaneo e che credo meritino una trattazione più seria di quella che generalmente troviamo sui giornali e altrove. Credo che francamente abbia portato esclusivamente problematicità, nel senso che si tratta di una forma di reggimentazione del discorso pubblico e di esercizio di censura e di autocensura che ha creato essenzialmente come un unico effetto reale una forma di repressione del discorso, una forma di controllo e di esercizio di controllo dall'alto rispetto a chi può o non può parlare, chi può dire qualcosa, chi deve in qualche misura tacere. Il libro del professore cerca di fornire dunque un'analisi breve ma esaustiva della storia, delle radici filosofiche e dell'impatto sociale e psicologico di questo movimento.